Perché partono con due aerei? Perché non sapevano l'uno dell'altro. Noi però lo sappiamo, sono partiti con due aerei nella stessa ora per andare a Bruxelles. Poi sono anche tornati. Cosa ha fatto Bruxelles? Ha fatto delle cose formidabili, non credo che ne avremo alcun beneficio, ma sono partiti con due aerei di Stato, cioè voi pagate le tasse, voi pagate le tasse per pagare l'aereo. Di Alfano, ministro degli esteri del buco del culo, che deve andare a Bruxelles. E poi pagate le tasse per il viaggio a Bruxelles alla stessa ora del ministro, del presidente della questione Gentiloni, senza buco del culo, e voi pagate le tasse. Ora, io vi esorto a non pagare le tasse, che rimangono senza benzina, che gli si bruci il culo, che vadano avanti con le scorreggie. Ma perché devono andare avanti con la benzina pagata da noi? Ma perché devono andare avanti? Pare che siano costati i due voli 70.000 euro. 70.000 euro i due voli.